Quando facciamo una ricerca online su Google, i risultati che il motore ci propone possono comprendere video, immagini, articoli di blog, notizie dell'ultima ora e quant'altro. Nel caso stessimo cercando una particolare tipologia di contenuto online, possiamo filtrare questi risultati tramite le categorie che troviamo in alto sulla pagina. Se ad esempio stiamo cercando solamente immagini relative alla parola chiave inserita, ci basta cliccare sul filtro immagini per accedere ad una pagina dove sono riportati solamente risultati di tipo immagine. Queste immagini provengono da una moltitudine di siti web, ma Google ce le mostra raccolte in un'unica schermata. Per tornare ai risultati generali, possiamo cliccare il tasto indietro sul browser oppure il filtro web. Allo stesso modo possiamo visualizzare solamente le notizie recenti relative a quel che stiamo cercando oppure cliccando su più contenuti, i video o qualsiasi altro filtro che Google ci mette a disposizione. Nota che la chiave di ricerca è rimasta sempre la stessa. Molti di questi filtri dispongono di ulteriori filtri avanzati per restringere ancora di più il campo di ricerca. Se all'interno del filtro immagini clicchiamo su strumenti di ricerca abbiamo la possibilità di filtrare per dimensione, colore, ad esempio possiamo scegliere di mostrare solo le immagini in bianco e nero e via dicendo. Per resettare questi filtri avanzati ci basta cliccare su cancella. E di nuovo in qualsiasi momento, per tornare alla pagina dei risultati iniziale, possiamo cliccare sul filtro web. Grazie. 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 Grazie a tutti.